beautiful anticipazioni dell'episodio che andrà in onda venerdì 25 ottobre 2024 taylor insinuerà che brooke abbia minato la sua fiducia comportandosi in modo sleade nei confronti di thomas e che questo le abbia aperto gli occhi sul fatto che brooke non sarebbe mai cambiata e che presto o tardi avrebbe cercato di ritornare insieme a rege nel frattempo di con confiderà a holly che cosa ha fatto spinto da taylor iscrivetevi al nostro canale youtube e devo essere della squadra perché abbiamo tanti contenuti su tutte le soppe ma anche su tantissimi altri argomenti buona visione a tutti quanti